Sì, sono in India un plazzo e ottene e vene da Mattia. Sì, adesso vi faccio vedere il saut del tre. Per scominciare a fare il saut, si scomincia con il saut del tre, a sa che le cal più sorri. Si tratta di un saut di messa a rotazione che si fanno sotto sul perfil delle forze già in alto e ruvano sul perfil delle forze già in alto. Questo è il perfil delle forze che andrà per scominciare il saut. La spenta per fare il saut, la vencata alla distensione della giama sulla giaccia. La ciapa sbuffa dalla giama Ledia. Buongiorno, sono Selene e Antone. Vieni da Canacei e ottene e anche vi fai vedere l'Axel. L'evoluzione del saut è l'Axel. O la che, chi va con i feri, conferna la rotazione di un'auto emesa per aria. La rotazione, la doventa degra al saut scomenza sul perfil delle forze e arvesinane impressa la giama Ledia e i bracci dintorno alla silde rotazione del corpo. La posizione per aria, la con essere verticale più che seppelle. Curiosità! Vediamo adesso che il saut l'è stato fatto di modo triple, che fosse tre rotazioni e mezzo per aria. E' il solo saut che si scomenza su Luziani e Antone. Il nome del saut è venuto dal norvegiano Axel Polsen, che lo ha fatto per la prima volta del 1882. Peres Latins!